risultati sono una cover mi cancetti Plastic people look the same Plastic man Plastic man Il risultati sono una cover mi cancetti Plastic man Plastic man si chiede che membriere non s'involvono con la firma o persone che attività non è inconsistente con i principi sette in l'Olimpico Charter. Ha Goran expliqué chi siamo siamo? Sì, sort of. Sì, sì. Ha esatto come senzioni che siamo non parte del formato London Bid? Sì, non. Sì. Profesor Slavkov 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 So you need, you know, you maybe offer them a business contract or... Yes. So you need, you know, you offer them a business contract. Oh, dear. One's a result. 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 One's a result.